Salve a tutti sono Terenas e benvenuti a questo nuovo video Come potrete vedere dietro di me non c'è il mio sfondo solito Perché al momento sono a casa di Gaia, motivo molto semplice Stiamo per partire per il Comic Con e volevo registrare questo video Prima del Comic Con, visto che quello che sto per dire Effettivamente va a influire su dopo il Comic Con Allora, durante questi giorni, venerdì, sabato, lunedì Troverete tutti quanti i soliti video, due video al giorno Come sempre, rimango più della voi Ve li porterò comunque tutti quanti e riuscirò a portarveli tutti Sempre, fino a lunedì Lunedì invece saremo ancora al Comic Con Quindi non sono riuscito a programmare dei video in tempo Proprio per arrivare fino a martedì E martedì quello che succederà è questo Martedì voglio, praticamente, quello che farò Voglio fare un pochino, non un remake della mia stanza Ma voglio un pochino mettere in ordine Voglio un pochino aggiungere delle cose Voglio mettere più che altro Voglio, diciamo, creare un ambiente che è un pochino più bello per lo streaming Perché al momento il mio ambiente per lo streaming sono io e un muro bianco dietro Che è un po' una merda La cosa che volevo andare a fare proprio è andare a migliorare l'aspetto di quello che mi appare dietro alle spalle E quindi mi chiederà tutta la giornata di martedì Quindi martedì effettivamente non avrò dei video pronti per voi E non potrò produrli il giorno stesso In cui effettivamente torno Quindi mi dispiace Perdonatemi, perdonatemi davvero Lo so che voi dite Eh ma non sto praticando La cosa è che purtroppo non avendo un portatile per poter rinitare magari mentre sono in viaggio O comunque il tempo materiale Visto che comunque sono stato a un sacco di fiere durante questo mese Che non solo non mi hanno mai praticamente permesso di Né mettere in ordine, né ripulire, né fare le funzioni di base di un essere umano All'interno della mia stanza Che poi vedrete perché voglio ho intenzione di farvi capire quanto cambierà la stanza Ma la cosa è che non mi ha effettivamente nemmeno permesso di Insomma di darmi del tempo per mettermi un attimo a posto Riposarmi e tutto quanto Cosa che effettivamente è importante Infatti la settimana dopo il Comic Con sarà una settimana in cui Sì potrei streammare Non ve lo garantisco perché mi serve un attimo un respiro Un po' prendere il respiro Dopo tre weekend di file in cui ci sono Prima il Romics, poi il Torino Comics e poi il Comic Con di Napoli E al Comic Con di Napoli saranno quattro giorni in cui io presento ogni giorno Non sul palco di Legacy Go Pro Sarà ancora più sfinito Senza considerare il viaggio che sono sette ore di macchina Non so in che condizioni tornerò da Napoli E quindi vi avverto Probabilmente non riesco a fare dei video per Marti V Quasi sicuro Se ci riesco è un cazzo di miracolo Proprio detta brutalmente E non so che tipologie di video usciranno Magari avrò registrato qualcosa durante il Napoli Comic Con E ve lo butto fuori Perché comunque sono contento di buttarvelo fuori Nulla Ma questo è tutto quanto per questo video Non volevo aggiungere troppo altro Spero che i cambiamenti vi piaceranno Io sono carichissimo più che altro perché Sono dei bei cambiamenti E spero che vi piacciono più che altro Perché poi almeno l'ambiente sarà un po' più vissuto E poi da maggio vorrei riprendere effettivamente Lo streaming con più consistenza Visto che comunque per quanto mi riguarda Non per la Gaia Per quanto mi riguarda personalmente Il numero di eventi a cui partecipo L È tangente allo zero Cioè qualcosa durante i weekend Magari come al solito Vabbè Ma niente che effettivamente devo fare Dei grandi viaggi Che mi preoccupano tutto il weekend E che mi affaticano troppo Magari cose giornaliere Un pochino più sobri E tranquille Penso di riuscire a farle tutte quante Quindi Ragazzi Vi chiedo di essere pazienti Per favore Spero che lo siate Grazie mille di tutto quanto Gentilissimi come sempre Per quanto riguarda il canale Perdonatemi per le patch notes Un po' troll E andate a godervi il video In cui ho spiegato Smiles Perché quello è veramente divertente È uno dei pochi di divertente Che sto facendo Questo è tutto quanto per questo video Vi facciamo per ragazzi Ciao Ciao Ciao